In Medio Oriente, un gruppo di contrabbandieri viaggia attraverso il deserto alla ricerca di animali esotici. Un uomo si aggira su una duna e scopre una caverna di ragni sotto una roccia. Avvertì i suoi compagni, e questi pompano un gas giallo nel buco per costringere le creature ad uscire. All'inizio non succede nulla, ma quando l'uomo sbircia nella caverna, un arachnide gli salta in faccia. Ben presto gli altri ragni fuoriescono dal buco e i contrabbandieri ne raccolgono il maggior numero possibile. Vedendo il loro compagno contorcersi dal dolore per il morso, un uomo alzano afferra un macete e lo usa per porre fine alle sue sofferenze. Giorni dopo, in Francia, Caleb chiede ad Alice a gioielli di qualità migliori nascosti in retro bottega, perché deve trovare un regalo per una persona speciale. Il negoziante dice di aver sentito dire che l'uomo rivende la sua merce, cosa che Caleb nega con vemenza, aggiungendo che ora vende scarpe da ginnastica. In retro bottega, Caleb ammira gli animali esotici dell'uomo e poi vede il ragno. Chiede se è in vendita, così Alice gli offre la creatura per 20 euro e si acquista anche gli orecchini d'oro da 80. Prima di andarsene, l'uomo chiude il contenitore con un laccio per capelli. Nel fattiscente condominio in cui risiede, Caleb aiuta la custode, signora Zhao, con la spazzatura. All'improvviso dei petardi sul pavimento spaventano i due e un gruppo di adolescenti dispettosi fugge dalla scena. L'uomo cattura Musa, lo richiama per il suo comportamento, gli confisca la borsa contenente i petardi e la consegna alla custode. Poi Caleb scende una rampa di scale con luce attivata da sensori e gira l'interruttura del timer prima di camminare lungo il seminterrato. All'estremità vede il suo amico Mattis, che manovra la bicicletta attraverso la porta e deduce che l'ha rubata. Nel magazzino dove tiene la merce, l'uomo trova altre biciclette. Dice quindi a Mattis di restituirle perché devono concentrarsi sulla vendita di scarpe da ginnastica. L'uomo ricorda a Caleb l'ordine di tuoi mani, ma quando controlla la scatola, si accorge che è danneggiata dall'acqua a causa del tubo che perde sul soffitto. Incarica Mattis di trovare una nuova scatola per le scarpe perché vuole gestire un'attività rispettabile. Nell'appartamento che condivide con la sorella Manon, che sta ristrutturando, l'uomo rimprovera i fratelli per aver messo gli oggetti della loro defunta madre in scatole come se fossero spazzatura. Nella sostanza, Caleb vede che Manon ha staccato le lampade riscaldanti per i suoi animali esotici. Poi prende il contenitore di plastica dalla sua borsa e trasferisce il ragno in una scatola per scarpe vuota che gli servirà da recinto temporaneo. Più tardi, l'uomo affronta la sorella per aver staccato la spina della lampada, ma lei gli risponde che fa aumentare la bolletta. Lui dice che presto venderà diverse paia di scarpe e potranno tenere l'appartamento. Lei però non è d'accordo e pensa che dovrebbero vendere lo spazio perché potrebbero usare i soldi per avviare un'attività. Caleb le dà dell'egoista per aver proposto di vendere la casa in cui hanno condiviso una vita di ricordi con la propria madre. Esce di corsa dall'appartamento e si dirige a casa di Claudia per la festa di addio della donna. Sulla porta ha incontrato Mani, che gli chiede del suo ordine. Caleb spiega di avere le scarpe, ma che hanno bisogno di una nuova scatola. Prima di andarsene, il cliente chiama il suo cane Maggie e sottolinea che ha bisogno delle nuove scarpe da ginnastica entro domani. Alla festa Caleb chiede a Claudia se è triste per aver lasciato l'appartamento e la donna dice di non potersi più permettere lo spazio, ma di essere contenta che la nuova casa abbia un giardino. L'umore le regala degli orecchini e le dice che spera che non le dimentichi mai. La donna ha perso il regalo e aggiunge che la sua defunta madre sarebbe orgogliosa di ciò che è diventato. Nel frattempo, in camera da letto, il ragno fa un buco nella scatola e scappa. Più tardi Caleb controlla l'arachnide e si accorge che è scomparso. Allora cerca nella stanza e trova un bozzolo all'interno della cornice per far farle. Getta l'uvo in una scatola di scarpe vuota sotto il letto. Prende le scarpe di tuomani e decide di dormire sul divano, nel caso in cui il ragno si nasconda da qualche parte. Il giorno dopo, dei rumori di perforazione svegliano l'umbo che si precipita in bagno. Con sua grande sorpresa, vedi Lila, l'amica di Menon e Jordi, il fidanzato della donna. L'interazione tesa tra i due uomini lascia intendere che un tempo erano buoni amici, ma che hanno litigato. La coppia spinga di essere lì per aiutare Menon con le riparazioni. Nel frattempo, Matisse dice di essersi aggregato perché aveva il giorno libero da lavoro. Poi aggiunge di aver trovato una nuova scatola per le scarpe di tuomani. Quel pomeriggio, Caleb consegna a tuomani le sue scarpe da ginastica nel parcheggio. In seguito, Gilles, un inquilino odioso che intende acquistare l'appartamento dei fratelli, sospetta che gli amici spacciano. Tuomani chiama il suo cane e tornano indietro attraverso il corridoio nel seminterrato. L'uomo si toglie le vecchie scarpe da ginastica, le getta nel cestino della custode e si siede a terra per indossare il nuovo paio. Tuttavia sente un forte dolore al piede. Quando controlla cosa c'è dentro, il ragno striscia sul suo braccio. Scaccia il ragno dal corpo e lo scaccia con la scarpa da ginastica. Improvvisamente centinaia di ragnetti emergono dalla scarpa e si arrampicano sul braccio. Mentre l'uomo si dimine e imprede al panico, Meg ingerisce un ragno morto. Nel frattempo, Caleb torna all'appartamento e trova tutti in camera al suo a prendersi il gioco del suo hobby per gli animali esotici. Il suo telefono squilla e vede che è Tumani, ma lo ignora. Dopo aver detto a tutti di lasciare la sua stanza, chiude la porta e appogge un asciugamano sul davanzale, sconcertando Manon. Contemporaneamente, Tumani riesce a ritornare nel suo appartamento, nonostante gli effetti devastanti del morso velenoso. Un liquido giallastro fuoriesce dai suoi occhi, delle protuberanze infiammate ricoprono il suo braccio e inciampa stordito nell'appartamento, cercando di raggiungere il suo telefono. Tuttavia, l'uomo cade a terra, ha le convulsioni e alla fine muore. Più tardi, mentre Giordi e Matisse salgono le scale, il primo si la mette ad avere male alla gamba, attribuendo il dolore persistente ad una ferita subita anni prima. All'improvviso, il signor Beizawi chiede agli uomini se hanno visto Tumani perché il suo cane abbaglia senza sosta. Nel corridoio, Lila, un poliziotto municipale, sconsiglia Gis di sfondare la porta perché controlegge. Tuttavia, lei e altri vicini cedono e una volta buttata giù la porta, trovano il corpo senza vita di Tumani. Pochi minuti dopo, arrivano le autorità e il tenente dice agli inquilini di tornare nei rispettivi appartamenti. Giordi spiega che lui e Lila non vivono lì, ma il poliziotto insiste affinché nessuno esca prima di aver visto un medico e di essere assicurato che siano in buona salute, soprattutto perché non sanno ancora cosa abbia causato la morte di Tumani. Gis dice che Caleb ha venduto sostanze illegali alla vittima spiegando il motivo della sua morte e l'accusa a far arrabbiare quest'ultimo. Il tenente calma la situazione e chiede a tutti di tornare alle proprie case. Nella cucina dell'appartamento, dove Maggie si intratiene con il gruppo, Giordi afferma che le protuberanze sul braccio di Tumani non sembrano segni di aghi, contrariamente a quanto sostiene Gils. Nel frattempo, la signora Zhao spruzza l'insettegita sulle ragnatele all'interno dell'armadietto della custode. A sua insaputa, decine di ragni adulti si muovono dietro la bocchetta dell'aria, rivelando che questa specie si sviluppa e si riproduce rapidamente. Nel bagno dell'appartamento, alcuni ragni entrano attraverso il tubo di scarico, mentre Lila, Ignara, si lava le mani. Si accorge che l'asciugamano appeso alla porta si muove e quando controlla, un ragno le striscia sul braccio. La donna grida aiuto e si nasconde nella cabina della doccia. Giordi afferra un bicchiere per intrappolare la creatura, ma quando la donna gli ordina di ucciderla, lo fa. Il ragno sopravvive e strisce sul divisorio, così il ragazzo lo colpisce con un asciugamano e lo calpesta. Tuttavia, quando solleva l'asciugamano, migliaia di ragnette si disperdono e altri emergono dallo scarico della doccia. Alla fine gli amici escono dal bagno e tappezzano tutti gli spazi per evitare che i ragni entrino. All'inizio Caleb nega di aver avuto a che fare con le creature, ma alla fine ammette di aver comprato un ragno. Tuttavia, giura che la femmina acquistata era 10 volte più piccola di quelle presenti in bagno. In camera da letto, Matisse teorizza l'adattamento come ragione per cui la prole è molto più grande della femmina originale. Poi Giordi trova delle ragnette nella cornice della farfalla e Caleb dice che ha fatto un bozzolo che ha messo in una scatola di scarpe. Quando l'amico vede centinaia di ragnette all'interno della scatola, le chiude rapidamente e Matisse ne fissa i bordi con del nastro adesivo. Nel frattempo all'ingresso principale, la signora Zhao vede i poliziotti chiudere le porte dall'esterno, mettendo l'edificio in quarantena. Dopo aver notato altre ragnatele nel corridoio, controlla lo spazio sopra il soffitto e lo trova infestato di ragni. Spruzza quindi l'insetticida, ma quando sbircia di nuovo, un ragno le salta in faccia, facendo cadere la donna dalla scala. Nell'appartamento, Giordi, Lila e Manon vogliono andarsene e informare la polizia. Tuttavia, Caleb e Matisse insistono per salvare Musa, Bansawi e Claudia. Alla fine Giordi dice che hanno 15 minuti per riunire gli altri inquilini. I due bussano alla porta dell'adolescente, ma lui non riesce a sentirli per via della musica ad alto volume. All'improvviso, Musa vede un grosso ragno, ma quando cerca di schiacciarlo con il piede, lo manca e invece fa un buco nel muro. Infila la testa nell'apertura e subito decine di ragni lo attaccano. Urla, ma il padre che dorme in salotto non lo sente. Nel frattempo Caleb apre con forza la porta di Claudia che non risponde. Gli amici trovano la donna immobile in salotto. L'uomo si avvicina, ma mentre sta per tolcare Claudia, dal suo corpo furiescono dei ragni. Nel corridoio, Banzawi li implora ad aiutarlo, ma poiché presenta sintomi assimili a quelli di Tsunami, Caleb ordina all'anziano di rientrare in casa. Confuso, Matti si chiede perché non possono aiutarlo. Così l'amico spiega che le creature depongono le uva all'interno delle persone che hanno morso, motivo per cui i ragni sono usciti dal corpo di Claudia. Contemporaneamente, Giordi si informa sugli arachnidi e scopre che, in alcune specie, le femmine hanno la capacità di aumentare le loro dimensioni per difendersi dai predatori. Improvvisamente sentono un rumore provenire dalla cucina e, quando vanno a controllare, trovano i ragni che spuntano dal corpo senza vita del cane. Nell'appartamento dell'anziano, Eiji assala gli ultimi respiri circondato da decine di ragni. In tutto l'edificio, le creature si riproducono e ogni generazione successiva dà vita ad una prole più numerosa. Più tardi, gli uomini si riuniscono agli altri che li informano che non possono tornare dentro. Mentre stanno per andarsene, Gils appare e attacca Caleb con una chiave inglese. Lo squilibrato dice loro di rientrare nell'appartamento. Essi fa strada nella stanza di Caleb, sperando di trovare le sostanze illegali che hanno causato la morte di Tsunami. Dopo essersi scambiati sguardi complici, i due permettono a Gils di entrare nella stanza. Vede la scatola di scarpe sigillata e crede che il suo contenuto confermi i suoi sospetti. Tuttavia, quando fa un buco nella scatola, i ragni furiescono e lo attaccano. Gli amici lasciano quindi l'appartamento e chiudono la porta. Scendono le scale fino all'uscita laterale, ma scoprono che è invasta da Racknidi. Manon suggerisce il garage, ma dopo aver aperto la porta del corridoio del seminterrato, si accorgono che dovranno camminare lentamente attraverso il sentiero infestato dai ragni. Nonostante le proteste del fratello, Manon si offre volontaria per andare per ultima, perché qualcuno deve caricare l'interruttore del timer per tenere accesa la luce. Dopo che gli altri hanno raggiunto la porta del parcheggio, la donna cammina lungo il corridoio. Proprio mentre il timer scade, Manon si imbatte in una ragnatela, ma riesce a liberarsi senza disturbare i ragni. Ora che sono al completo, Jordi cerca di aprire la porta. Con grande sorpresa, i poliziotti impediscono a loro di uscire. Gli uomini in uniforme ordinano al gruppo di rientrare nei loro appartamenti, ma i rumori di panico fanno arrabbiare i ragni. Improvvisamente i poliziotti spruzzano un gas nocivo attraverso la fessura per scoraggiare i sopravvissuti. Quando questi continuano a tirare la porta, gli uomini all'esterno iniziano a sparare per farli smettere. Il gas e il rumore allertano le pericolose creature e gli amici non hanno altra scelta che tornare di corsa all'estremità del corridoio. Dopo essere usciti dal tunnel, si rendono conto che Jordi è ancora dentro. Caleb cerca di tornare indietro a prenderlo, ma vedendo l'amico avvolto nella seta di ragno, capisce che è troppo tardi. L'umbo dice a Lila che non possono salvare il suo ragazzo, ma lei si rifiuta di crederci. Nel frattempo, Matisse vede gli arachnidi ancora più grandi emergere da un corpo sul soffitto e avverte gli altri. I fratelli trascinano Lila sconvolta in un magazzino e lei si lamenta coprendosi le orecchie per non sentire le urla di Jordi. Vicino al muro, Matisse trova la borsa confiscata a Musa, con i petardi e una torcia. Pochi minuti dopo, il determinato Matisse suggerisce di salire le 15 rampe di scale fino al tetto ed accendere le torce per avvisare gli edifici vicini. Poco dopo, l'umbo lancia un petardo sul pavimento e spaventa i ragni, rivelando che hanno paura delle luci forti. Mentre il gruppo esce dalla stanza, Matisse accende una torcia, sperando che scoraggi le creature dall'avvicinarsi. Dopo che si sono allontanati lentamente, Caleb prende una molotov dallo zaino e la lancia contro gli arachnidi. Questo fa arrabbiare i ragni e spinge gli amici a scappare sulle scale, fino all'appartamento di Gils. Manon, che sta ristrutturando lo spazio, digita la combinazione della seratura e apre la porta. Pochi minuti dopo, Caleb cerca di consolare la donna in lutto e lei gli chiede perché lui e Jordi hanno smesso di parlarsi. L'umbo rivela che lui e il suo amico sognavano un giorno di avere un rettilario. Alla fine ha preso un'iguana che ha morso la gamba di Jordi. Si è infettato e ha dovuto subire un intervento. Caleb aggiunge che quando la polizia chiese cosa fosse successo, Jordi fece la spia, così non andò mai a trovare l'amico mentre si riprendeva in ospedale. Alla fine, quando sua madre è morta, Jordi non è mai andato a trovarlo, lugorando ulteriormente il loro rapporto. Dice di essersi pentito di aver ignorato l'amico, soprattutto dopo aver scoperto il suo dolore. All'improvviso, tre poliziotti entrano nell'appartamento dal balcone e nonostante i sopravvissuti cercano di spiegare la situazione, si rifiutano di ascoltare e li arrestano. Quando Caleb riprende conoscenza, si rende conto che si trovano nel parcheggio, dove uomini in tutta antibatterica spruzzano un liquido sconosciuto su un mucchio di ragni morti, mentre altri spallano i resti. Il tenente si avvicina e cerca di spiegare perché hanno dovuto mettere in quarantena l'edificio, ma Caleb si rifiuta di ascoltare, soprattutto perché le loro azioni hanno portato alla morte di Jodie. Si gira e vede il morto sul collo di Mattis, che dice di non avergli lo detto per non preoccuparsi. L'amico dice che si precipiterà verso la porta nel corridoio del seminterrato per liberare i ragni, permettendo così agli altri di fuggire. Nonostante le suppliche di Caleb di ripensarci, Mattis si alza, corre verso la porta e la spinge per aprirla. Dopo qualche secondo di silenzio, i ragni si diffondono nel parcheggio e i poliziotti, presi dal panico, iniziano a sparare. Nel caos, Manon si separa da Lille e Caleb e l'umbo chiede alla donna di usare un accendino per tagliare la fascetta che gli lega le mani. Mentre si nascondono dietro un'auto, sentono le urla del tenente mentre un aracnide gigante lo attacca. Poi, ordina la donna di nascondersi nella sua auto, mentre lui trova la sorella. Tuttavia, mentre corre verso Manon, un proiettile lo colpisce alla gamba. Allora la sorella rompe il finestrino di un furgone e aiuta Caleb a salire. La donna, pentita, si scusa per aver fatto finta di non avere a cuore la casa e la madre. Qualche istante dopo, i ragni entrano lentamente dalla finestra rotta e i fratelli si preparano all'inevitabile. All'improvviso il bagliore dei fari e il clacson di un'auto spaventano le creature. Capiscono che si tratta di Lila, così i due saltano fuori dal furgone e seguono i fari attraverso il parcheggio. La donna guida il veicolo attraverso il pandemonio degli spari, ma quando raggiungono l'uscita, Caleb le dice di fermarsi, perché devono aprire il cancello. Tuttavia, un enorme ragno le attende. Nonostante la pressione delle donne, Caleb dice che deve scendere dall'auto per aprire il cancello, mentre fissa l'imponente creatura, fa segno a Lila di spegnere la luce. Con grande sollievo, il ragno sceglie di scappare invece di inseguire l'uomo. Dopo aver aperto il cancello, Caleb esce alla luce del giorno. Giorni dopo, gli sopravvissuti affiggono le foto degli amici e delle persone care. Poi, Lila e Manon osservano da lontano la demolizione dell'edificio. Di frattempo nel bosco, Caleb mette una foto di lui e Jordi allo zoo dei rettili in una scatola e la seppellisce nel terreno. Mentre si ripossa su un albero caduto, nota un ragno sulla spalla e lo stringe delicatamente tra le mani. Fissa la raccanide per qualche secondo per poi soffiarlo via. E tu hai paura dei ragni? Oppure, che paura hai? Scrivilo nei commenti. Iscriviti al canale per altri video come questo e lascia un mi piace per supportarmi. Grazie per aver guardato.